Oggi andiamo a parlare di uno dei più grandi misteri, ma neanche più di tanto, per quanto riguarda Boruto, ovvero la continuazione di Naruto Shippuden. Oggi andremo a parlare di quello che è il potere attuale di Boruto Uzumaki e anche di Kawaki. Sto parlando del Karma. Il Karma è il segno maledetto che alcuni membri del clan Otsutsuki utilizzano per reincarnarsi, trasformando in contenitori gli individui a cui applicano il marchio. Il Karma è un vero e proprio backup compresso delle informazioni genetiche dell'Otsutsuki che lo ha impresso. Con il passare del tempo, il Karma sovrascrive il profilo genetico dell'ospite, consentendo così il controllo del corpo e la sua trasformazione, con la conseguente reincarnazione dell'Otsutsuki. I membri dell'organizzazione Kara possiedono informazioni su questo marchio, ma parlerò dei Kara in un video dedicato. Boruto ha ottenuto questo marchio da Momoshiki Otsutsuki, dopo averlo sconfitto. Quando il marchio non è attivo, possiede una forma molto simile al Byakugo. Non appena viene attivato, il marchio si estende fino a tutto il palmo della mano per salire lungo il braccio, per poi raggiungere la parte del volto dell'utilizzatore. Durante lo scontro con Shojoji, Boruto attiva inconsciamente in modo parziale il Karma, riassorbendo il suo stesso Rasengan. Durante lo scontro con Koji Kachin, Boruto lo attiva a un livello successivo. Con il marchio, Boruto assorbe il ninjutsu dell'avversario, per poi crollare a terra privo di forza. Circa tre anni dopo si è dimostrato capace di attivare il potere in maniera volontaria, durante lo scontro con Kawaki. Quando il marchio viene rilasciato in maniera completa, causa una trasformazione fisica, con la comparsa di un corno sulla fronte, tipico del clano Otsutsuki. Jigen, capo dell'organizzazione Kara, possiede il marchio del Karma sul suo mento. Questo l'ha ottenuto da Ishiki Otsutsuki. Inoltre si è dimostrato capace di trasferirne una copia a Kawaki. Boruto possiede questo marchio sul palmo della mano destra, mentre Kawaki lo possiede sul palmo della mano sinistra. Dopo l'attivazione del marchio, quello di Boruto si colora di blu, mentre quello di Kawaki si colora di rosso. I karma di diversi utilizzatori sono collegati fra di loro. Il karma di Jigen è collegato al karma di Kawaki, mentre quello di Kawaki è collegato a quello di Boruto. Per ora abbiamo visto solo poche tecniche utilizzate con il karma. Per esempio, la tecnica karma-violenza è una tecnica di assorbimento del chakra. Gli permette di rendere inutile la maggior parte delle arti magiche lanciate dai nemici, e successivamente ne assorbe il chakra. Il chakra assorbito viene immagazzinato nel karma, e può essere riutilizzato per gli attacchi successivi. È anche possibile assorbire il chakra allo stato grezzo da altri individui. Come per i Shiki, che controllando Jigen, è stato visto assorbire chakra a distanza dal Dekakoda. Mentre Momo Shiki, controllando Boruto, l'ha assorbito da Naruto, stabilendo un contatto fisico. Questo è un metodo molto utile per riempire le riserve di chakra del contenitore, e prepararsi a un'imminente battaglia. Tuttavia, l'assorbimento possiede degli svantaggi. Il karma è limitato ad assorbire tecniche composte unicamente da energia, come appunto lo è il chakra. Quindi non è in grado di assorbire tecniche composte da materia fisica. Per esempio, è possibile assorbire tecniche basate sull'arte dell'acqua, ma non tecniche che manipolano l'acqua preesistente dal chakra. Questa debolezza può essere sfruttata per una strategia contro un portatore di karma, intrappolandolo con attacchi che non sarebbe in grado di assorbire. Come per esempio la tecnica della nebbio scura di Boro. Quando uno Tsuzuki è sotto il controllo del contenitore attraverso il karma, di solito evita di assorbire grandi quantità di chakra, poiché riempire le sue riserve di chakra potrebbe risvegliare il contenitore e contestare così il controllo del proprio corpo. Dopo questo di cui abbiamo parlato, esiste ancora una tipologia di karma attualmente. Sto parlando del karma bianco. Il karma bianco è una reminescenza del karma che è stata ottenuta da Kod dopo aver subito il rituale di Ishiki. Poiché Kod non è un contenitore, il suo karma non è svanito al momento della rinascita di Ishiki, nel corpo di Jigen ovviamente. E prima che la sua anima sparisse, Ishiki affidò a Kod il compito di portare avanti la volontà degli Otsuzuki, sacrificando così Boruto o Kawaki al Dekakoda e nutrendosi del frutto del chakra dell'albero divino. Quando viene attivato diffonde delle macchie grigie lungo il lato sinistro del suo corpo, formando un disegno che rispecchia quasi quello di Jigen, estendendosi fino all'occhio sinistro. Inoltre, il karma bianco non scomparirà se un Otsuzuki resuscita tramite il sigillo del karma completo. In alternativa, l'anima dello Otsuzuki può alterare la programmazione per ricostruire il corpo del contenitore una volta, salvando così la sua anima ma annullando la resurrezione. Kod ha dimostrato di essere compatibile a sopravvivere al processo pur non essendo il contenitore di nessuno. I suoi attributi sono per lo più sconosciuti, ma è stato visto usare il sigillo di Kod in battaglia, apparentemente ottenendo miglioramenti sulle sue prestazioni. Ishiki, in forma spirituale, fu in grado di usare questo sigillo per comunicare con Kod dopo la sua morte e lo descrive come la sua eredità sotto forma di puro potere. Tuttavia, come notato da Momoshiki, il karma bianco non è in grado di assorbire arti magiche, come d'altro canto farebbe un karma convenzionale. Questo bene o male è tutto quello che ci è dato sapere attualmente sul karma. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video.